Gli insorti hanno ribadito anche ieri di voler continuare E' stata una soddisfazione Perché mercoledì c'è il mercoledì al Barmato a Fossa Lunga di Vede Lago Con Marco Baxo, Sister Gloria E attenzione, attenzione, potremo esserci tutti noi a festeggiare il compleanno di Gio Del nostro Gio Giusto dall'avventura Mentre il 10 settembre saremo al top of the cartoon sky A Venezia in occasione della mostra del cinema di Venezia Sulla terrazza dell'hotel dalle 19.30 Sei ancora in tempo per iscriverti alla Smile Run La corsa benefica non competitiva di Padova Ti aspettiamo domenica 12 settembre alle 18 in Prato della Valle Per correre, fare del bene e divertirci insieme nello Smile Village Allestito per l'occasione con musica, intrattenimento e buon cibo Iscriviti subito su www.smilerun.it Food Experience 2021